E' bello a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, oggi ragazzi siamo ritornati dopo un sacco di tempo a parlare del Napoli, il nostro Napoli, vi voglio avvicinare un attimo una cosa, raga, secondo voi chi acapperà il Napoli fra il quattro turno della Coppa Italia, fra Empoli e Brescia? Scrivermi nei commenti, ovviamente lasciarmi un bel mi piace, ragazzi vorrei ringraziare prima di tutto ai video che ho pubblicato qualche giorno fa di Bologna-Napoli, 3, incredibile, è stato proprio un, andato proprio forte, oltre 207 ragioni e 3 like, complimenti, continuate così in questo, in questo video, Io almeno, e voglio, almeno 5 mi piace, 5, e speriamo che il Napoli si porta a casa dopo un anno di Coppa Italia, Un'altra Coppa Italia, la settimana Coppa Italia, io ci vedo ancora, ovviamente, scrivermi nei commenti, Ah, raga, un'altra cosa, prima di staccare, ma, per caso, sto dicendo una curiosità, Se io, mi fidanzerei, con una ragazza, voi lo volete, il video di presentazione, anche questo fatto, scrivermelo nei commenti, ok? Bene, ragazzi, spero questo video vi è piaciuto, lasciatemi un mi piace, commentate, condivite, iscrivetevi al canale, dobbiamo adiare a questi, bene, dobbiamo adiare a questi, benedetti, 400 iscritti, un bacione a tutti, e noi ci vediamo domenica con il post partita di Napoli-Milano, e ci maniamo, vamos!